Balla la salsa, ma questa non è una salsa, questa è una tartina alla crema di tonno! Cuoccarina, 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 cuoccarina. Questa è facile da fare, giusto per incominciare, il buon tonno scocciolato devi farlo sminussato. Piccolino a pezzettini, direi quasi a granellini, pece avviene senza fretta, lavorando con forchetta! Cuoccarina, 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 cuoccarina. Con formazzo ben cremoso, il taleggio delizioso, lo fan su sulla montagna, dove l'acqua non restagna. Per aggiungere sapore, non c'è nulla di migliore, maionese, carciottini, devi aggiungere al taleggio. Cuoccarina, 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 cuoccarina. Cuoccarina, 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 cuoccarina. E più son sottili fatti e più lascian soddisfatti, schiaccia, unici, frula e sbatti, e sui panni ben compatti. Stendi a velo col col coltello, l'uovo in fondo a farlo bello, decorando con sapienza di cui non potrai fare assena. Cuoccarina, 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 cuoccarina. Grazie a tutti.